Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Vince il match, l'unica differenza è che il nero avrà meno tempo e poi là si farà un'asta dove chi vuole il nero deve scommettere il tempo più basso possibile Quindi chi offre meno tempo sull'orologio ha il nero che ha praticamente due risultati No, scusate, io mi sono persa un pezzo, cosa succede per forza o incarelinà su check n ka Si è anche sentito un mezzo sim hai visto Entro a fine mese guarda sono già fortunata se ne faccio tipo, 200 E' fuor топ and cool Greatest clip Greatest clip Holy shit Ma è incredibile Anzi ma secondo me c'è un frame In cui mi vedo Per un mese Anzi questa deve diventare la clip più vista di sempre su Twitch No è impossibile di Italia A sinistra il libanese A me senti sto pollo che ha fatto Sofia Volante Ma porco Ma porco Dio Ma sta solo di aglio Dio merda Ma io devo stream a 7 ore qua dentro Madonna troia Ma come cazzo fai Allora ti metti con le ginocchia tipo capito come gli hindu Si si ma le muovi con le mani I piedi L'imperioso L'imperioso Che bucio di culo Che bucio di culo Il più forte di tutti Ma ragazzi c'è un one shot Ma ho sparato l'altro C'è un one shot ma che Non riuscito Ragazzi ma non è un gioco Ma che cos'è Ma che cos'è Ma Che fia Che fia Fia No lo scrivete pare che sbaglia Come on Martinelli Come on Martinelli Come on Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Il potere Anche l'arsena Abbassa la testa Ti pare che segnano No non possono segnare Quelli dello sporting Eccolo qui Sofia usa il bag Dei doppi punti Ggggggggggggg BOOM BABY BAY 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 In tre ore Fesimo solo due C'è quale Fesimo se dice Facciamo Delle cuffie Ma che ti sembro Un negraccio Gara di Di pregi Non lo so Come se vai a vincere Honestly Gagagga Cazzone Se vuoi parlare Parliamo Andre Stai qua però Gunter che viene spinto Un'altra volta Gunter Gunter Aspetta un attimo Gunter Occhio a Gunter Che prova a passare Ma Frattino Non è d'accordo Attenzione Cade a terra Frattino Arbitro Stai ripartendo Frattino E fa gol Pensi che Redez è quello Che piagna Oh vedi Era la battuta Più bella di sempre Se avessi potuto dire Lui è sti negro Io sono Però non si può fare Capisci Non posso Ma sarebbe stato Bellissimo Era una hit Di battuta E non lo posso fare Ahimè Marzano È così che va Io non prendo Un cesso di boccia roccia Dal 15 di ciò No E la canzone Come mangiare Il cucchiaio d'argento E adesso Bevo fusti Di ciò piccolo Questa della mia E cusi Bebe di noi faranno bussi Come te i russi Fratti spariamo come fusi A me non me ne frega niente Ci becavamo nel band Mi fotterei a neppure Le busse La lecco tutta io Quello è zinnone Piacciamo i flussi Mangiare il flusso Mi fa schifo il sushi Tutti i mesi dell'anno Fratti chi va fusi Ci sono i ragazzini Che ti guardano Question 20 Ma non so se siete finiti Question 21 Sii Non mi disposto Spavento più No non aveva troppi meme Su quei giochi del cazzo Si Che bello Quando è il 23 O il 24 Che giorno è il 24 Perché se io parlo Di altra roba Mi distraggo E vorrei parlare Dei pescati Perché tutti i giocatori Nel torneo Hanno una seconda possibilità Di risalire E vincere il match Quindi sì Ok Perfetto Va bene Va bene Splendido Grazie per il vostro tempo Sterminato Schiacciato Annullato Abbattuto da Sofia Fiorini Non la invita più In line che prendi il gioco No E' delusa da posto Veramente ragazzi C'è far partire sta roba Queste dichiarano Queste erano E' delusor